Ciao ragazzi e benvenuti nella mia stanza d'albergo a Folgaria, come qualcuno di voi già sa e avete visto l'ultimo weekly update, sono in vacanza a Folgaria per lunedì, martedì, mercoledì fino a giovedì per cui è anche per questo motivo che vedrete pochissimi video, molto probabilmente farò fatica a far uscire il video domenica di storia del calcio vedrò cosa riuscirò a fare l'unico giorno disponibile, cioè giovedì quando torno perché poi venerdì, sabato e domenica vado a lavorare, quindi avrò molto meno tempo per poter fare il video vedrò cosa posso fare, magari verrà un video un pochino più corto, visto che qualcuno di voi si è lamentato qualcuno magari anche non di voi si è lamentato della troppa lunghezza degli ultimi video anche se sono così, format 10 minuti, non posso far durare un format 3 minuti, però questo magari ne parleremo più avanti a riguardo, mentre ero sulla funivia, sulla seggiovia meglio dire, ho sentito alla radio che Eugenio Corini si era dimesso dall'essere allenatore del Palermo, quindi si era dimesso come allenatore del Palermo quindi terzo cambio stagionale in panchina per il Palermo di Zamparini che non si smentisce mai possiamo dire una cosa del genere, chissà che cosa succederà adesso, mi spiace per gli amici di Palermo che purtroppo si ritrovano ad avere un presidente veramente problematico, se possiamo dire così però sono convinto che lo stesso il Palermo riuscirà a rialzarsi da questo brutto momento magari questa è la volta buona, chi lo sa, non lo so, comunque è una cosa pazzesca come anche addirittura il capitano storico del Palermo possa dimettersi e avere queste problematiche non lo so, voi cosa ne pensate? Il Palermo riuscirà a ritornare su? chi sarà il prossimo allenatore? Tornerà di nuovo Ballardini? Di nuovo De Zerbi? spero per loro di no, però magari, non so, un allenatore giovane, un allenatore nuovo magari una nuova spinta, magari proprio come è successo al Parma con D'Aversa allenatore giovane, carismatico e è tornato a vincere di nuovo, chissà, non lo so comunque ragazzi, video cortissimo appunto perché sono in albergo sto rilassando dopo mesi e mesi di lavoro barra studio ora tra le feste di Natale e di nuovo gli esami di febbraio e aprile ci rilassiamo un attimino che stanchezza per oggi ragazzi, davvero mi raccomando, commentate qui sotto ciao da Papirus vediamo se riusciamo a vedere questa è folgaria spettacolo